quando roma divenne una repubblica nel 509 avanti cristo roma divenne una repubblica l'ultimo re di roma terquino il superbo viene cacciato dai romani perché troppo prepotente nasce anche una leggenda la leggenda di lucrezia sui motivi per cui i romani si ribellano contro l'ultimo re di roma ciao al prossimo video vi aspetto